good morning youtubers è passato un po di tempo dall'ultimo video lo so è anche il motivo per cui sto facendo questo video è per spiegarvi che cosa succede in questo ultimo periodo un po per tutti quelli che magari non vengono a giocare nel discord o da noi o comunque in generale quindi non hanno contatti diretti con me ma che comunque seguono il canale ringrazio fra l'altro tutti quelli che mi hanno scritto privatamente anche su facebook ragazzi sono vivo sono vivo ecco l'ultima volta che ero riuscito a fare tenete conto una partita su battlefield 5 è stato l'uno di questo mese quindi sono passati più di dieci giorni e quindi anche io non vedevo l'ora di tornare a farmi almeno una partita e ieri sera verso l'uno e mezza di notte avevo appunto voglia di cechinare un po e infatti eccovi le clip in buona sostanza ragazzi in questo periodo non sono molto presente non perché sia in vacanza magari ma perché mi sto preparando per l'ultimo e tosto esame della mia facoltà che darò la prossima settimana studio più o meno dalle otto alle dieci ore al giorno e quando finisco ragazzi non ho assolutamente voglia di impegnarmi a fare qualcos'altro come appunto portare dei video prima di tutto perché non è qualcosa di rapido anzi dietro a un video di dieci minuti ci sono circa cinque sei ore di lavoro in media e anche se questa cosa vi può sembrare strano vi assicuro che è così e magari in futuro vi coinvolgerò per una volta nel processo di creazione di un video dall'inizio alla fine dove potrete farmi delle domande in caso magari vi servo una zampa con l'editing insomma potrebbe essere qualcosa di interessante da fare in live insieme a voi ecco come dicevo quando finisco quando stacco dallo studio non ho praticamente mai voglia di impegnarmi ancora e anzi inizio giustamente a rilassarmi e magari mi guardo qualcosa su netflix mi sono visto l'ultima stagione di stranger thing in questi giorni e poi mi addormento può sembravi strano ragazzi ma ve l'assicuro io ho lavorato per 11 anni prima di decidere di tornare a studiare iscrivendomi all'università e so quindi che cosa vuol dire la stanchezza da lavoro ma anche quella da studio specialmente quando è uno studio pesante e specializzante comporta altrettanta fatica e questo potrebbero confermarlo tutti quelli che tra di voi lo so che ci sono stanno facendo l'università stanno studiando e quindi mi capiscono studiare costo caldo seduti per ore cercando quindi di non distrarsi e rimanere sempre concentrati non è la cosa più semplice del mondo specialmente d'estate in ogni caso ragazzi ci do dentro so che l'ultimo esame e deve impegnarmi al massimo dopodiché arriverà la tesi da preparare che è anche molto interessante visto che ho deciso di focalizzarmi sul diritto dell'internet che è un campo nuovo e preparerò poi specificatamente la tesi sulla nuova normativa relativa al diritto di autore al copyright europea quindi ragazzi eccovi spiegato il motivo della mia assenza in questi giorni non vi assicuro che riuscirò a portarvi nemmeno la recensione della nuova arma perché non so nemmeno se riuscirò ad avere proprio il tempo e la voglia di sbloccarla proprio quindi se dovessi riuscirci bene altrimenti avrete sicuramente altre fonti di informazione italiano straniere e per una volta in 4 5 anni credo che non muoia nessuno del resto al mio livello e per quello che faccio e per come ho deciso di farlo youtube è semplicemente una passione non un lavoro e come tale quindi cede il passo alle cose più importanti quando serve quindi ragazzuoli io vi auguro delle buone feste se siete in festa siete in ferie di godervela al più possibile per gli altri invece che stanno lavorando o studiando tenete duro e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao